Questa sera la gara tra le nuove proposte vedrà salire sul palco Tecla. Ma in realtà non ho ancora capito che potrei farcela un giorno. Diciamo che il canto e la musica sono cose che hanno sempre fatto parte di me. Come ho detto prima, che formano la mia persona. Quindi non smetterò mai. È una cosa che ho sempre fatto. Come stai vivendo questo Sanremo? Con tanta emozione e tanta carica. È emozionante. Spero di poter portare un messaggio molto importante che è quello che anche se ho 16 anni capisco quello che succede intorno a me. E mi piacerebbe raccontare la verità. Sì, ci sono stati dei periodi in cui non credevo molto in me stessa. Però fortunatamente ho avuto la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e ha credito più di quanto lo facessi io. Tu sei poco social. Come mai? Perché com'è? Ripeto, ribadisco. Ho paura di stare a pensare a cose troppo superficiali e superflue come i like o le visualizzazioni o i seguaci. Voglio vivere la mia vita nel mondo reale. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti